Palermo come Catanzaro un anno fa, con la differenza però che la formazione Rosa Nero, nonostante il vantaggio dei due risultati su tre per passare il turno, segna e manda fuori il termo al primo turno dei play-off. Al Barbera finisce 2-0 per la formazione di casa, con reti tutte nel primo tempo. Paci conferma la formazione che ha battuto la Viterbese nell'ultima giornata della stagione regolare, salvo il rientro in campo di Arrigoni al posto di Lombardi in mediana, e con gli ex Santoro e Birligea subito in campo. In casa Rosa Nero, Filippi tiene in panchina il bomber Lucca, recuperato dopo un infortunio, ed ha ancora fiducia a Rauti in avanti, assistito da Canutè e Floriano. Il termo sembra iniziare con l'approccio giusto, mentre il Palermo a tendere, ma dopo pochi minuti di gara arriva già un episodio importante. Canutè va al cross dalla destra, Valente carica il tiro al volo, che secondo il direttore di gara viene deviato, con un braccio da Lassic. Dal dischetto va a calciare Floriano, che indirizza centralmente la traiettoria e spiazza Lewandowski, portando avanti il Palermo. Dopo qualche istante Rauti è costretta a lasciare il campo, dopo un contatto in precedenza con Santoro. A suo posto fa il suo ingresso Saraniti. La gara prende così una brutta piega per il Teramo, costretto di conseguenza a fare ancora di più per vincere. La gara però si fa ancora più complessa per il Teramo prima di rientrare negli spogliatoi. Saraniti dà di fatto il via all'azione e propizia lo splendido gesto tecnico di Luperini, che in rovesciata, in aria, porta sul 2-0 al 44esimo i padroni di casa. Per il Diavolo è ovviamente un brutto colpo. L'inizio ripresa non offre cambi né dall'una né dall'altra parte. Il Teramo deve ovviamente provare a segnare e ci prova al quarto bombaggi dalla distanza, trovando pronto Pelagotti, con Ilari non troppo contento dell'iniziativa personale da parte del compagno di squadra. Poco dopo, Paci è costretto al cambio perché Birligea incappa in un nuovo problema muscolare, con Chiermateng che ne prende il posto all'ottavo minuto di gioco. Costa Ferreira, tre minuti più tardi, impegna Pelagotti con una conclusione su cui l'estremo difensore di casa si fa trovare ancora una volta reattivo. Non avendo nulla da perdere, però, il Teramo prova ad attaccare con costanza e protesta al 26esimo per un contatto in area tra Chiermateng e Lancini, su cui il direttore di gara lascia proseguire. Paci chiama in campo K al posto di Ilari ed è proprio l'ex Roma a scaricare per Santoro che fa partire un destro al 31esimo, su cui di nuovo Pelagotti dice di no. Un minuto più tardi Lancini e Pelagotti pasticciano su un pallone che sembrava comodo da controllare. Bombaggi da posizione di filata prova a riaprire la gara con palla che danza sulla linea, ma non la oltrepassa. I minuti passano ed il Teramo non riesce a pungere. Al 43esimo Valente ispira Sant'Anna in aria, che di testa però non trova lo specchio della porta. La conclusione di Costa Ferreira, con nuova parata del portiere di casa, è la chance che manda i titoli di coda sulla gara del Teramo e sul suo campionato. Come nella passata stagione, il Diavolo lascia il playoff al primo turno e si prepara ora ad affrontare la programmazione per la prossima stagione con tanti punti interrogativi da chiarire.